Ciao ragazzi siamo di ritorno da questa bellissima e interessantissima esperienza oggi CSM Consulting ha preso le vesti di insegnanti per un giorno e tutto sommato abbiamo scoperto anche di essere bravini io ho un'impostazione accademica e il dottor Cesare invece è più fantasista esatto, più showman comunque magari potrebbe essere l'attività del futuro di CSM Consulting a chi lo sa abbiamo pensato dopo la nostra docenza all'università di Pordenone e sul suggerimento dei ragazzi stessi di aprire un canale su youtube CSM Consulting questo per dare piccole pillole di conoscenza per vivere anche forse un po' meglio in mezzo a tutto questo prostuono di normative, leggi, assicurazioni o meno noi cercheremo di dare il massimo e ringraziamo tutti voi per questa energia che ci avete dato ciao a tutto lo staff di CSM ciao